Quanto tempo c'è? Da due anni ce l'hai, vero? Sempre delle stesse dimensioni? No, è cresciuto ultimamente, vero? Sì, ma non di moltissimo. Adrì, lup. Prenerino? Ecco lì, già finito. Un rirobato, eh? Eh, non lo favo. Cosa facciamo l'infettazione antibiotica? Come vuole. Cos'hai? Vai a infiltrare. Dammi un po' di vetari. Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Grazie a tutti.